Ciao a tutti, io e Picettino siamo qui per portarvi nell'ultimo capitolo della lunghissima saga di Tex Wheeler che ha portato il nostro Tex a fare il soldato nelle paludi della Florida questo è l'ultimo capitolo di questa lunghissima storia che mi sembra sia partita dal numero 18 questo è il numero 23 quindi direi che di carne al fuoco ce n'è tanta partiamo subito con i dati basi, i dati basi è che è uscito il 18 di settembre questo albo sì siamo arrivati un po' lunghi, questo è il 18 settembre 2020 numero 23 formato Bonelli di facciata 66 pagine di taglio quindi è il new Bonelli userei quasi definirlo cosa abbiamo qui dentro? Qui dentro abbiamo un sacco di roba come dicevo la conclusione di una lunghissima storia che è particolare per molti aspetti, partiamo subito partiamo dalla copertina con Maurizio Dotti che ci porta un Tex agguerritissimo con quel simpaticone di Firefox che ormai abbiamo imparato a conoscerlo e troviamo proprio una copertina che non lascia dubbi è una resa dei conti, è un finale, è qualcosa che si va a chiudere e non sarà amichevole per nessuno dei due ovviamente notare Tex con il coltello e lui con la spadona, con la sciabola che è proprio una bella cosa perché è un duello che è quasi fuori dall'West volendo vedere, perché siamo abituati a vedere i duelli di pistola, di Winchester qui abbiamo un duello di arma bianca, è una cosa un po' particolare e mi piace tantissimo l'arma bianca normalmente simboleggia anche per certi versi l'onore quindi è proprio una cosa che mi colpisce molto ovviamente fondale che abbiamo già imparato a conoscere, quindi Paludoni della Florida con questi bellissimi colori dietro, insomma un albo che solo a guardarlo ti viene voglia di aprirlo davvero interessante, tra l'altro mi piace moltissimo l'illustrazione quindi è proprio bello, quindi complimenti a Maurizio Dotti, complimenti per il concept complimenti per tutto, il biglietto da visita è andato alla grande entrando poi dentro nell'albo abbiamo ovviamente il riassuntone abbiamo il frontespizio, poi abbiamo Wanted, l'ultimo conflitto ovviamente siamo sempre a parlare dei seminoles che sono la tribù indiana di cui siamo praticamente, in cui siamo invischiati nelle vicende grazie a Tex e all'esercito quindi è un altro approfondimento molto bello, molto centrato e decisamente arricchente, ecco mi piace questi sono proprio, posso definire i redazionali che mi sento di promuovere perché danno valore aggiunto alla storia, conoscenze aggiuntive per noi e danno un tocco in più che davvero ti fa, non sembrare meglio però ti fa un arricchimento reale cioè quando hai chiuso ti senti davvero arricchito quando l'hai letto dici, oh so qualcosa in più è una cosa bella ed è totalmente e perfettamente centrato all'interno di questa storia quindi meglio di così non si può chiedere ma ora la ciccia grossa la storia e i disegni eccoci qui i disegni ragazzi beh i disegni non voglio dilungarmi è sempre Michele Rubini è sempre ciò che abbiamo già detto nei numeri precedenti cioè perfetto action, paludi i personaggi che si muovono che hanno espressioni che hanno, come posso dire una vita propria che sono perfettamente riconoscibili ombre in mezzo alle paludi action spari insomma tutto quello che si può volere persino text tamarrissimo con inquadratura allucinanti bellissimo io non ho cioè onestamente non so cos'altro aggiungere quindi vi dico non voglio dilungarmi troppo cioè vale esattamente ciò che ho detto fino ad oggi cioè Michele Rubini fa un lavoro della Madonna bello stato a tutti i punti di vista accurato bello bello da leggere bello scorrevole tutto perfetto senti l'umidità nelle ossa mentre lo leggi vedi proprio le espressioni capisci tutto cioè è incredibile davvero guarda che bella questa immagine anche con i seminoles con il loro classico abbigliamento stravagante tex cioè io onestamente in questo caso mi sento di non avere nulla da aggiungere cioè per me è promosso al mille per mille quindi è esattamente ciò che vi ho detto fino ad oggi Michele Rubini grandissimo non mi dilungherò perché vorrei che il giudizio è lo stesso di tutte le parti precedente siccome l'abbiamo già ripetuto per mesi e mesi non mi sembra il caso di aggiungere ancora le solite cose perciò vale quello che è stato detto grandissimo Michele Rubini promosso al mille per mille ed eccoci qui Mauro Boselli che ci porta alla conclusione di questo lunghissimo flashback perché sì è un flashback all'interno di queste storie del passato tex è seduto con i suoi guerrieri di fianco al fuoco come potete vedere eccoli qui e sta parlando sta parlando da qualche mese ormai per noi in realtà gli sarà qualche ora sarà una fredda nottata o comunque un momento di calma e racconta di questo suo incontro con questa tribù di indiani molto lontani che sono i seminoles da qui si è tutta una girandola di eventi che ha il suo culmine qui qui abbiamo il culmine di tutto ovvero il destino di Firefox il destino della compagnia il destino delle trattative di pace con i seminoles Carswell il nostro agente federale Brian Carswell che è sulla caccia di tex sta cercando anche di inquadrare tex come persona si troverà anche i vari fronti perché vi ricordo che tex si è fatto anche dei nemici all'interno dell'esercito con gli scout insomma tutti questi fili stanno andando a chiudersi qui qualcuno troverà il suo destino qualcuno troverà troverà il suo ritorno qualcuno troverà l'amore perché si qualcuno troverà anche l'amore in un modo un po' particolare insomma è tutto perfetto voglio fare pochi spoiler perché è una storia veramente complessa lunga disseminata di pennellate di genio e un Mauro Buselli che secondo me è ispiratissimo cioè proprio bella viene conclusa in un modo molto particolare come vi dicevo prima in fase di copertina questa è una resa dei conti la resa dei conti sarà particolare persino per con un tex che farà delle cose e Carswell che sembrerà un tipo di personaggio inquadrato lo scopriremo piano piano fino alla fine con un twist particolare insomma c'è veramente tantissima canna al fuoco il finale ovviamente serve anche a spiegare come mai tex poi è riuscito ad essere a piede libero ovviamente questo è un piccolo spoiler ma non è poi così spoilerosa perché in realtà sappiamo che tex è a piede libero e qua con un mastino del genere che gli corre indietro lo sta inseguendo da due storie filate perché questa è una storia lunga ma prima Carswell è già comparso quindi insomma alla fine dell'opera bisogna chiudere in un certo modo troviamo un mastino così prima o poi devi capitolare ecco qui fa una chiusura perfetta e mi piace molto perché inquadra anche un po' quello che è tex quello che rappresenta il giovane tex più scavezza collo più spandone più 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 tamarro ecco mi viene proprio questo termine però con dei risvolti ecco questo è incredibile mi piace davvero tanto quindi qui avremo tutti i nodi vengono al pettine tutte le trame vengono portate in fondo chi deve subire subirà chi dovrà salutare saluterà e tutto questo senza cali di tensione cioè veramente bella mi manca la prova del 9 confesso che non ho ancora fatto di rileggerla tutta di fila questo non ho ancora fatto lo voglio fare nei prossimi giorni però posso dirvi che questo nelle mani della legge è veramente una conclusione un finale con una cornice di racconto veramente bella posso dire che qui veramente vediamo il tratteggio del carattere di tex e vediamo anche un qualcosa che forse col tempo non dico che è andato un po' a perdersi però lo vediamo vediamo un tex con primari tra due volte del momento stabilire relazioni da zero mentre molto spesso soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto tex sempre con i suoi parts qui lo vediamo invece dover costruire relazioni da zero muoversi in territorio non suoi che non conosce e arrivare a determinate soluzioni idee fulminacci nella testa cioè insomma devo essere sincero è davvero davvero un numero importante di chiusura che chiude davvero in un certo senso un cerchio una macro storia e credo che sia un'ottima storia davvero bella non ho altre parole ma Robosan lì non delude mai quindi sì siamo arrivati al ventitresimo numero abbiamo provato la storia molto lunga che addirittura aveva reminiscenza di quella precedente parlo di Carswell ovviamente è fantastica è una galoppata con un Tex giovane che ti fa sentire giovane a sua volta e ti dà quella voglia di leggere mi piace davvero tanto ovviamente chiunque prende in mano questo volume conosca un pochino Tex e veda la copertina del prossimo sarà già con la mascella per terra io sono il primo quindi tra il 17 di ottobre quindi tra qualche giorno perché ormai siamo lì vedremo cosa succederà sul Tex Wheeler però questa parentesi in Florida è stata una figata incredibile è stata una bellissima storia con un finale in cui tutti i nodi tutto ciò che è stato seminato tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere che abbiamo visto che hanno partecipato a questa storia avranno una loro conclusione io non so dirvi altro per me è sì ed è un ennesimo tassello che va ad aggiungersi ad una ad una collana che sembra assuro dire che Tex va bene come vendite però ha rinfrescato ancora di più quello che era un personaggio che comunque sta andando bene e vedere un personaggio che è nato nel 48 che anche oggi ha una sua seconda collana inedita mensile di questo livello per me non ha prezzo è incredibile quindi ragazzi vi consiglio di recuperare Tex Wheeler siete pigri non vi piace il formato avete lo zio miliardario anche perché quello può contare ci sono i volumoni cartonati anche di Tex Wheeler strano ma vero se proprio siete interessati prendetene uno ne trovate trovate le storie complete non i pezzettini mensili e magari vi innamorate di quelli aspettate quelli però nel caso invece siate un po' più in economy ci sono questi volumi qua mensili per me il bianco e nero è il top quindi cosa posso dirvi posso dirvi che io sono soddisfatto felice faccio i complimenti a Mauro Boselli e l'intero staff della Bonelli per una pubblicazione di un personaggio storico ma di una freschezza incredibile promossa al mille per mille vi aspetto in edicola perché il prossimo numero già dalla copertina promette fiammate incredibili ma intanto godiamoci questo finale di questa lunghissima storia mi raccomando ciao 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 Grazie a tutti.